Due ex sindaci, Roberto Salmo Iraghi e Marita Piccaluga, i rispettivi vice Alfio Balsamo e Florio Bernasconi, un ex amministratore del casino Carlo Pagan, e poi altri funzionari e amministratori del municipio, componenti del consiglio di amministrazione e consulenti della casa da gioco. Un elenco di 18 nomi ai quali si aggiunge la società casino di campione, finiti nel registro degli indagati, nella vasta inchiesta sulla gestione del casino e sulla procedura fallimentare tuttora aperta. Una vicenda che vede intracciarsi il destino del municipio, delle inclave, per il quale lo stesso Salmo Iraghi aveva dichiarato il dissesto finanziario nel 2018 e quello della casa da gioco. Per l'accusa, coordinata dai magistrati Pasquale Addesso e Antonia Pavan, sarebbero state le decisioni degli amministratori comunali ad aggravare di fatto la situazione finanziaria del municipio di campione, con atti e decisioni come la rinuncia a crediti vantati dal comune nei confronti della casa da gioco e le modifiche della convenzione che regola i rapporti tra municipio e casino in termini sfavorevoli per l'amministrazione del paese. Di fatto, gli amministratori comunali avrebbero coperto le perdite del casino, impoverendo il municipio. Allo stesso tempo, sempre secondo la ricostruzione dell'accusa, gli amministratori della casa da gioco avrebbero alterato i bilanci della società per nascondere la reale situazione economica e le decine di milioni di euro di debiti poi emersi e sfociati nella sentenza di fallimento della procura di Como, in seguito annullata dalla Corte d'Appello di Milano e non ancora conclusa in attesa della decisione definitiva della Corte di Cassazione sulla fallibilità della società. Dopo la notifica dell'avviso di chiusura indagini, ora gli indagati hanno due settimane di tempo per depositare eventuali memorie difensive dalla procura, potrebbe poi arrivare la richiesta di rinvio a giudizio.